Approvato dall'Aggiunta Lamboglia di Tortore al protocollo di intesa con la Fondazione Roberta Lanzino Ollus, intesa siglata di recente con l'associazione creata dai genitori della giovane Cosentina, assassinata e stuprata nel luglio del 1988. Ollus che lotta contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne e di tutti i soggetti deboli. Coniugi Lanzino che da anni intervengono alle giornate sostenute dal comune tortorese per contrastare qualsiasi violenza di genere che sfoce in devianza comportamentale disagi familiari. Insieme con politiche attive per attivare misure di prevenzione un percorso progettuale per educare alla non violenza e proteggere le vittime maltrattamenti e abusi sempre d'attualità anche a Tortora. Del resto basta considerare gli ultimi fatti di cronaca. La città di Blanda dopo aver intitolato un parco alla memoria della giovane entra pertanto nella rete locale progetti ed iniziative. Impegni reciproci tra le parti, la fondazione ospiterà nella propria struttura a reen della casa di Roberta, donne e minori tortoresi in difficoltà, li troveranno ambulatori medici e audizioni protette, di tutto per monitorare, studiare ed intervenire sui casi limite. Una struttura finanziata con fondi POR, ente comunale che invece si occuperà dei provvedimenti istituzionali per l'accoglienza degli ospiti. Azioni autorevoli come queste, spiegano gli assessori nel documento, nascono perché spesso gli strumenti normativi non sono in grado di garantire l'idonea tutela. La sinergia nata dal protocollo sosterrà infine azioni di rete in ulteriori livelli territoriali, in ambito sanitario, sociale e di sicurezza.